questa piccola applica una volta che quando noi compriammo inizio ciac dopo si fanno i tagli questa piccola applica potatura potatura veniamo alla posta piccola applica sto preparando chi è emanuele a la mano di emanuele sto preparando dei video ciao a tutti i bio bonsaiisti caro abbonato ti do il benvenuto in questa sezione questo livello livello base ti permetterà come puoi vedere qua alle spalle c'è una un bonsai di ficus attraverso questa serie di video che pubblico avrai a disposizione tutti gli strumenti per poter coltivare al meglio questa pianta qui perché prima ancora di pensare a fare un bonsai bisogna spesso e volentieri capire quali siano le sue esigenze una volta che quando noi compriamo inizio ciac 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 si gira ciac questo poi alla fine lo metto altra cosa molto importante è quella di ruotarlo di 180 gradi lo ruotarlo ciac come lo hanno a a a a prova ciac sono dentro la nebbia incredibile capitolo 6 questo capitolo ti presenterò tutti tutti gli attrezzi tutti quanti questi sono questi sono i miei attrezzi quelli che utilizzo giornalmente se tranquillo non devi o tranquilla non devi averli possederli tutti